Aosta è una città davvero a misura d'uomo e non è un modo di dire, è una città piccolina ma che come capoluogo di regione ha tutto quello che uno si può aspettare. Non a caso recentemente è stata nominata la città in Italia con la qualità della vita migliore e è un posto dove si vive bene. Siamo ad Aosta, a Fiera di Sant'Orso. Fiera di Sant'Orso? Sant'Orso era un santo che nel mille... Mò, mistero. Questo qui Sant'Orso ha diverse leggende, ad esempio la prima è che lui ha coltivato sempre due orti. Una per i poveri e una per gli uccellini, che così gli si posavano sempre sulle spalle dappertutto. La Fiera di Sant'Orso è il vero momento che unisce tutti i valdostani. Vengo giù per vederla e faccio un giro. Vengo da giù, da Fondavalle. È una fiera millenaria, dedicata all'artigianato d'arte e non solo, anche di utensileria della Valle d'Aosta. La fiera si richiama a lui perché si racconta che Sant'Orso provvedeva ai poveri, oltre al pane, anche delle calzature, quelle tipiche calzature che ancora oggi si usano in legno e che noi chiamiamo sabò. Solo del rio fa zucche, vuol dire che sono l'ultimo a fare sabò, a mano. Il momento unificante della fiera è anche il momento in cui ci si trova nelle cantine, è la veia, la notte tra i due giorni della fiera, è il momento in cui gli abitanti di Aosta accolgono tutti coloro che vengono a bere un vino caldo o del brodo caldo, qualcosa che davvero tiene uniti. L'unico vero significato è l'amicizia e stare insieme in semplicità, come un tempo. E ci si ritrova tutti assieme a festeggiare, questi che sono i giorni più belli, direi, per la Valle d'Aosta. Adesso andiamo in cantina a ballare, a vedere un po' di fare due balli e continuare a fare festa. Durante la nottata i gruppi canori folcloristici e istituzionali girano per tutta la città per intonare canti di tipo prettamente alpino. La fiera volge a termine e speriamo in un altro anno di vederci ancora. Noi, 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 noi.